Luca, arriva la prima sconfitta e perdiamo la leadership, almeno momentanea, in testa alla classifica. Probabilmente adesso abbiamo perso, diciamo, il portiere nostro che adesso è stato... Anzi, salutiamo Edoardo, sappiamo... Edoardo, 5 anni! Comunque la sua presenza è fondamentale, però adesso oggi siamo stati sfortunati, loro sono stati bravi... Vabbè, non ci siamo esaltati sulle vittorie, non ci abbassiamo nemmeno... No, non ci avvertiremo mai, però diciamo che oggi è andata così, ma speriamo per la prossima. E' questo Napoli, chi dove vuole arrivare, no? Questo è il terzo o quarto torneo che fate con me, e finalmente questa mi sembra una squadra veramente molto quadrata. E' cari, noi cerchiamo di dire, io è di aver partito, e sperando di andare sempre avanti quasi con lo stesso passo, cercare di migliore per esempio. Io sto prendendo pure, sai, un Augusto, come non ho mai visto, città critica, corne, combattere... E poi tu sei veramente il tuo, no? Ti ringrazio, penso che questo è proprio il mio periodo, spero di continuare così, per la squadra, per il Napoli. E per quanto riguarda Augusto sono i nostri esploramenti. Ok, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.